Musica Semplici pratiche di rispetto del territorio che assumono un grande significato se riprese dai piccoli alunni delle scuole della città. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo si è tenuta questa mattina la premiazione del concorso fotografico Osole Napol, iniziativa sul tema della tutela ambientale, promossa dall'istituto comprensivo Aganor Marconi, in collaborazione con Fotoclub Partenope e Asia e il patrocinio del comune. Le due scuole coinvolte, Virgilio IV e Aganor Marconi, sono esempi di educazione condotta non solo dentro le aule, ma anche fuori da esse, nella città. E' importante questa narrazione diversa, perché un'altra Napoli, come un'altra scuola, sono possibili solo se cominciamo a raccontarla e ad agirla attraverso le pratiche della scuola. Il progetto ha coinvolto le quarte e quinte classi della scuola primaria e le prime due di quella secondaria di primo grado, con l'obiettivo di trasferire attraverso scatti fotografici un messaggio di educazione e rispetto per l'ambiente in cui viviamo. I ragazzi hanno preso spunto da operatori ecologici all'opera, eventi a tutela del territorio, ed una giuria di esperti ha poi selezionato le tre foto migliori da diffondere in diversi siti. Oggi non si fotografano più i cumuli, ma riusciamo a fotografare la bellezza della città, riusciamo a fotografare un'azienda risanata, riusciamo a mettere in sinergia uomini, turisti, amministrazione, cittadini, istituzioni e scuole. Una grande rete di giacimento culturale di questa città che sta finalmente facendo conoscere il vero volto di Napoli. Noi non ci accontentiamo, stiamo cercando di riorganizzare tutti i nostri servizi, prendendo di petto l'intera città, chi diceva che c'è una città di serie A, serie B, non è così. Quindi i bambini per noi diventano un veicolo del sacrificio, del lavoro che stiamo cercando di fare e diventa anche per noi un osservatorio privilegiato per sapere le cose che dobbiamo migliorare.